Amici di Vanum TV, ben trovati, buonasera, martedì 14 luglio, è il contenitore dedicato al campionato di Serie B, ovvero B di Vanum, e naturalmente questa sera abbiamo una puntata come sempre ricca perché si deve discutere del campionato di Serie B a quattro giornate della fine con due partite che sono state giocate nel giro di poche ore, tra i giorni di fatto da venerdì a lunedì, sono accadute altre cose molto interessanti, naturalmente ne parleremo con due ospiti come ormai è consuetudine da quando abbiamo iniziato esattamente otto settimane fa, ma ne parleremo come sempre, prima di tutto con Laura Maccioni che mi accompagna in questa avventura, buonasera Laura. Buonasera Gabriele, buonasera a tutte le persone che ci stanno guardando, un quadro molto interessante alla 34esima giornata del campionato cadetto, Gabriele. Assolutamente sì, ci sono stati altri verdetti, innanzitutto il verdetto della retrocessione della Livorno, era arrivato venerdì, è la prima retrocessione dalla B al campionato di Serie C, tra l'altro apriremo una piccola parentesi nella parte finale della trasmissione anche sulla Serie C perché comunque in un certo senso c'è un filo conduttore con il campionato cadetto, sono arrivate le sentenze dei quarti di finale, conosciamo le semifinaliste, da questa solo una salirà in Serie Cadetta e l'anno prossimo si troverà a giocare appunto in Serie B e poi c'è il verdetto arrivato praticamente ieri sera con i risultati di ieri, ovvero che alcune squadre attualmente in corsa playoff di fatto hanno dovuto abbandonare l'idea di poter agganciare l'ipotetico secondo posto perché il Crotone continua a vincere, ma ne parleremo più avanti e soprattutto ne parleremo con i nostri ospiti. Lascio a te Laura la presentazione della prima ospite di questa sera. Gabriele, è un'estate fatta di calcio a 360 gradi che questa sera commenteremo con una donna finalmente che è qui a farmi compagnia, giornalista e conduttrice televisiva Erika Calvani. Buonasera Erika. Buonasera a voi, buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te naturalmente che hai accettato Erika di essere qui con noi e insieme a te ovviamente argomenteremo con le tue conoscenze anche quello che accade nel campionato che sta accadendo nel campionato di Serie B. Ma insieme a, oggi faccio un'eccezione Laura, lascio presentare anche a te il secondo ospite di questa sera. Insieme ad Erika abbiamo un responsabile di una società di Serie B che partecipa attualmente al campionato di Serie B. Laura. Abbiamo perso l'audio, abbiamo perso l'audio di Laura. Per qualche istante facciamo entrare, mi senti Laura? Ci senti? Laura? No, abbiamo perso Laura. E allora andiamo ad inserire l'ospite Damiano. Alessandro, buonasera. Da Venezia, sappiamo che ti stiamo disturbando, tra virgolette, perché sei… Laura, adesso ti sentiamo, il bello della diretta. Allora lascio a te la presentazione. Buonasera, buonasera Alessandro Piavesan. Ciao a tutti. Buonasera a cena. Ciao a tutti. Alessandro, buonasera, è un piacere averti qui con noi. Grazie, io non sono sul divano, io sono su una panchina fuori dal ristorante, però è uguale, non è molto poco. E il bello del divano è la comodità, la comodità di stare anche rilassati e troviamo il relax anche ad una scena, Alessandro. Sì, sicuramente, è un piacere. Anche perché mi sembra nessuno è sul divano. No, nessuno è sul divano. Neanche io, Gabriele, in realtà, è vero. Verissimo, io sono su una comodissima poltrona. Qualcuno l'ha ribattezzata la poltrona da joystick, ma non è così, non sono un appassionato di calcio multimediale, sono un appassionato di calcio giocato, quello vero, quello che si respira con il profumo dell'erba. Parto da Alessandro, che è ultimo a entrare. Abbiamo una promessa da mantenere, ovviamente ti libereremo prima, proprio perché hai questo impegno con il Venezia e ti chiedo, parto subito parlando del Venezia, il Venezia che ieri è stato raggiunto dal Pescara, era una gara molto importante per la zona salvezza. Parto così, poi lascerò commentare a Laura i risultati e poi anche la classifica. I risultati che saranno doppi? Sicuramente ieri è stata una partita che un po' il Venezia ha perso nel finale della gara, ma ha perso perché forse pensava di averla vinta troppo in fretta, insomma, perché il Pescara è rimasto in dieci e poi a sua volta un errore di gioventù di Caligara che si è fatto speller anche lui, la partita ormai era indirizzata. Per cui si è complicato un po' il gioco della salvezza anche per la mia società, per la mia squadra, perché dopo i risultati ottimi che abbiamo fatto in precedenza, con anche il punto fatto a Benevento, ritornare al Penzo e magari andare in vantaggio a un'altra squadra in dieci, sicuramente è stata una mazzata anche dal punto di vista emotivo. Però adesso ci sarà la riprova a Spezia e speriamo sicuramente di portare a casa un risultato positivo. Non è facile, perché lo Spezia è una squadra veramente importante e poi ci aspettano due gare interne che saranno un po' il clou di tutto quello che è la bagarra in coda, perché avremo Juve Stabia e Perugia in casa e quindi là si giocherà un po' non soltanto il nostro campionato, ma anche un po' un sacco di società saranno interessate a questi due risultati. Tra l'altro, Alessandro, ricordiamolo, ex calciatore, hai militato nel Venezia, giusto? Sì, ho partecipato alla risalita, purtroppo in Venezia viene da una storia societaria. 2004-2005? Ti sbagli, 2006. 2006. Purtroppo in Venezia viene da una storia societaria un po' deficitaria, perché negli ultimi dieci anni abbiamo avuto vari fallimenti. Io ho partecipato come giocatore un po' alla rinascita del secondo fallimento, siamo ripartiti dalla Serie C, allora era la C2, poi siamo purtroppo rifalliti, poi è arrivato il nostro presidente americano, Gioca Zagopina, e adesso da qualche giorno in sella è un altro americano che è Duncan, l'ex presidente della Borsa di New York. Questa sera siamo a cena qui insieme con tutto lo staff della sede, perché e anche con il direttore sportivo, con tutti i responsabili del studio giornalino, perché questa è una famiglia, è una società veramente che si basa su contenuti morali importanti. E quindi stiamo cercando anche noi di cercare di fare il gruppo, come si suol dire, anche se in realtà noi non andiamo in campo, proprio perché secondo me l'unione tra le varie componenti dello sport, non soltanto andiamo in campo, ma anche chi sta in sede, chi sta fuori, è un'arma vincente. Quindi cerchiamo di stemperare la tensione, anche noi andiamo a cena, bevendoci una birra in compagnia. Alessandro Piovesan, che è di fatto il presidente di Venezia Academy, che in un certo senso è la società all'interno del Venezia Calcio stesso che raccoglie un po' i progetti del settore giovanile. Come sta crescendo questo progetto? E poi faccio subito una domanda per Erika e subito dopo Laura ci dà lo sguardo ai risultati. A Erika chiedo, così ci pensa, se secondo lei sta andando in atto, diciamo così, un campionato nel campionato dopo la sosta forzata. Alessandro, com'è questo Venezia Academy? Allora, innanzitutto l'Academy è un progetto che non ha nulla di commerciale, differenza delle altre Academy nel mondo. Noi ricordiamoci che siamo la città più, una delle città più importanti del mondo, è la più bella, quindi potremmo sicuramente trarre vantaggio dall'Academy da un punto di vista commerciale. In realtà l'Academy è non altro che un centro di formazione da cui trova giovamento poi Venezia, in particolar modo il settore giovanile, che è guidato da un'ex bandiera che è Mattia Collautto, che è responsabile del settore giovanile di Venezia e quindi anche responsabile del settore giovanile di cui fa parte l'Academy. Non è altro che un serbatoio di talenti pescati sul territorio ed è un centro di formazione dove accanto alla formazione data ai bambini è fatta tutta la formazione anche agli istruttori per seguire anche loro un sogno che è quello di un domani di approdare nell'RFC. Quindi non è altro che un centro di formazione, è una vera accademia di calcio e quindi si distacca un po' dalla concezione classica dell'Academy che serve per fare numeri bambini. Il nostro compito poi è un compito trasversale, nel senso che non facciamo solo calcio ma entriamo un po' nel tessuto sociale della città. Abbiamo fatto un accordo con la Curia, con il Patriarca di Venezia, quindi è la prima volta che la Chiesa, c'è un tra patriarca al mondo, fa un accordo con la società di diritto privato. Quindi entriamo nelle scuole, nei parchi, ma il nostro compito fondamentalmente accanto ai servizi che diamo a tutta la comunità veneziana è quello di formare i giocatori e formare istruttori. La caratteristica dell'Academy è che il responsabile proprio della metodologia tecnica che è Nicola Marangon, che è anche l'allenatore della primavera, viene con i ragazzini a fare tre volte allenamento con gli istruttori. Quindi è veramente un centro di formazione ai 360 gradi dove viene insegnata la metodologia, lo stile, la filosofia di gioco e di tutti i valori che sono all'interno del nostro club. È una base di partenza importante. Grazie ovviamente Alessandro. Sono stato un po' pesante. No, no, assolutamente no. Sei stato molto giornalistico, dobbiamo dire, da questo punto Gabriele, visto che Erika ha qualche problemino tecnico, prima di leggere i risultati, Alessandro non so se mi sbaglierò di nuovo, ma sei anche un ex Pisa, giusto se mi… Eh sì, è stata la più bella esperienza. Brava. È stata la più bella esperienza. Un'esperienza fantastica perché io sono veneziano, però il settore giovanile, l'ultima fase del settore giovanile, la primavera l'ho fatta al Padova, quindi allora c'era la rivalità. E venuto via da Padova mi avevano prospettato tra le varie squadre di andare a Pisa. E quindi sono andato là in C2 e c'era allora direttore sportivo Signorini, poverino, che era una persona squisita. E quindi è stata la mia vera esperienza da professionista, un'esperienza indimenticabile perché Pisa è una città fantastica. Vive il calcio in maniera… come se tu fossi al sud. E quindi è stata un'esperienza che mi ha lasciato anche un sacco di amici perché i pisani sono un popolo fantastico e quindi per me a Pisa, quando sento parlare di Pisa mi batte il cuore. C'è anche un bel tifo Alessandro a Pisa, è proprio la squadra e l'anima della città. Esatto. E come vedi, lo stai seguendo comunque, come vedi l'ascesa post quarantena del Pisa in questo momento? Guarda, io credevo che il Pisa fosse una squadra costruita bene, ma non pensavo che potesse arrivare dove è ora. Pensavo che se la giocasse con il Venezia e con le altre squadre in fondo a classifica. In realtà possono combattere per andare ai play-off e io credo anche perché per la storia di Pisa raggiungere i play-off sarebbe anche un giusto coronamento, visto che anche loro vengono danni difficili, fatti dalla rifondazione, la proprietà è stata una proprietà seria e il tifo a Pisa non ha categoria perché indipendentemente dalla categoria segue sempre alla squadra, quindi questo è un valore aggiunto. Quindi se vanno su sono ben felice. Laura direi di andare alla lettura dei risultati, così ci addentriamo e rendiamo anche partecipe dell'analisi, prima che ci saluti Alessandro, anche di quello che sta accadendo veramente in questo campionato. Partiamo Gabriele quindi con i risultati di venerdì scorso, quindi venerdì 10 luglio con la trentatresima giornata. Ringraziamo la regia di Damiano Baccetti che ci mostrerà i due turni di questa settimana. partiamo, Damiano, con il turno di venerdì. Damiano, ci sono dei problemi questa sera, è il bello della diretta, la regia di Damiano ci regalerà in questo momento, c'è un problema tecnico con il wifi per il nostro regista. Sì, probabilmente insomma il vento di questi giorni ha creato qualche scompiglio, va detto anche che in molte parti d'Italia stanno passando le fibre in questo momento e questo è un dato di fatto, ci sono dei problemini abbastanza importanti in molte località d'Italia. Eccoli qua, che arrivano i risultati, le lascio leggere a te. Eccoli qua i risultati, venerdì 10 luglio, quindi trentatresima giornata, Juve Stabia, Virtus Entela 1 a 1, Ascoli, Salernitana si è chiusa per 3 a 2, Benevento, Venezia un pareggio 1 a 1, 1 a 1 anche tra Chievo e Trapani, il Crotone che va a vincere 3 a 1 contro il Cittadella, 2 a 0 tra Empoli e Frosinone, Livorno-Cremonese 1 a 2, 2 a 2 tra Pescara e Perugia, Portinone batte Pisa 1 a 0 e si conclude i risultati della trentatresima giornata con Spezia Cosenza per 5 a 1. La nostra Erika ci ha abbandonato, però comunque... Eccola, eccomi. Adesso vi sento, incredibile, scusate, non riuscivo proprio a sentire niente. Non ti preoccupare, assolutamente sì. Abbiamo letto i risultati di venerdì 10 luglio, quindi la trentatresima giornata del campionato cadetto. Gabriele, andiamo già a leggere i risultati della trentaquattresima, quindi del turno di ieri sera. Damiano, mostraci la schermata. Lunedì 13 luglio, quindi Cosenza-Perugia si è chiusa 2 a 1, 1 a 0 tra Ascoli-Empoli, 1 a 0 anche tra Cremonese-Chievo e Crotone-Pordinone. Finisce 2 a 1, Frosinone-Juve-Sabia, Livorno-Spezia 0 a 1, 4 a 1 tra Salernitana e Cittadella, 2 a 0 tra Trapani-Benevento, 1 a 1 tra Venezia-Pescara e 1 a 1 anche tra Virtusetella e Pisa. Sì, Frosinone in realtà poi ha pareggiato 2 a 2. Diciamo, adesso coinvolgiamo Erika, diciamo dei risultati importanti che nel giro di tre giorni hanno stravolto prima la classifica, poi di nuovo stravolta per i risultati maturati lunedì. Il Cosenza che perde in maniera abbastanza ruoante in casa dello Spezia, poi si rifà tra le muramiche, dimostra che questo è un campionato di Serie B pazzo, ancora di più quando sappiamo che il campionato di Serie B è già pazzo di per sé, no? Cosenza e Trapani direi tra l'altro, perché anche il Trapani sta avendo un ruolino di marcia pazzesco in queste ultime giornate. Sì, sono 9 squadre, se non erro comunque in una decina di punti, insomma veramente la classifica è molto corta anche nella parte bassa della graduatoria. C'è da dire che in ogni caso lassù il Crotone, ovviamente adesso ha un passo in più verso il secondo posto, verso la promozione, sono 5 i punti di distanza dallo Spezia, importantissima la vittoria contro il Pordenone. Insomma, allo stesso tempo però questa ripartenza ha anche registrato, devo dire, comunque alcune difficoltà di alcune squadre. Penso al Frosinone, penso al Perugia, è stato un lockdown comunque che ha creato delle incognite, ci sono delle variabili in più e qualcosa si è inceppato in alcune realtà, mentre è ripartito molto bene in altre. Quindi sì, è un bellissimo campionato, il Benevento, vabbè, il Benevento dei record. Che poi ha mollato, Erika, tra l'altro. Diciamo che è quasi in vacanza adesso, più o meno, anche se Inzaghi ha un po' richiamato l'attenzione nell'ultimo post partita. Sì, comunque giustamente anche è comprensibile il fatto che magari si sia allentata un po' l'attenzione, no? Dopo aver ottenuto la promozione e poi come l'ha ottenuta, veramente con dei numeri pazzeschi. Chiedo a Erika, ma lo chiedo anche ad Alessandro, dall'esperienza del suo calcio giocato, pensate che lo Spezia, a cinque punti dietro al Crotone, possa riuscire in queste ultime quattro giornate a ribaltare la situazione? Rispondo io? No, perché con Venezia perde. Cosa ti devo dire? Se vuoi ti dimentico ma su, vuol dire che noi le traccediamo. Secondo me i giochi per la A sono fatti. Benevento è andato e Crotone è un passo superiore agli altri. Io l'ho visto qua in casa con Venezia. È una squadra che qualitativamente davanti sono di una categoria superiore. Poi hanno un allenatore in panchina che veramente è sprecato per la Serie B. È un allenatore importante per la categoria. Ho avuto modo di fare anche un incontro web, una conference con lui. Veramente è un allenatore che potrebbe fare un allenatore importante anche in Serie A. Prima perché è stato un grande giocatore, quindi conosce le dinamiche di un grande club. E secondo perché sa interpretare e capire i momenti della partita come pochi. e quindi per me Benevento e Crotone sono in alto. Io vedo molto bene il Pordenone perché ha una storia societaria che è partita dal piccolo ma ha un allenatore che conosce bene la categoria. E sono partiti in sordina le prime partite dopo il lockdown ma adesso si stanno rifacendo. È una squadra compatta e se vai ai play-off sarà difficile da fargli i gol. Quindi io la vedo che potrebbe essere un saldo importante. Erika? Ora io mi perdo mezze risposte per il problema del mio wifi probabilmente. Però lo Spezia io credo che, cioè non dovrei troppo sbilanciarmi in realtà. Quindi non mi mettete in difficoltà. Però credo che il Crotone sia veramente più di un passo avanti. Ecco, diciamo un bel, cioè più passi avanti. Sicuramente è il favorito in questo momento. Io a inizio stagione avrei pensato anche al Frosinone potesse far meglio. Tant'è vero che comunque prima del lockdown insomma il Frosinone era partito così e così però poi si era ripreso. Ma adesso, nelle ultime partite, ha totalizzato, mi sembra, cinque punti dalla ripartenza. Quindi comunque veramente poco. I play-off poi sono un altro torneo. Me lo insegnate voi, insomma lo sapete benissimo. Quindi una volta che poi chi riesce poi a partecipare ai play-off, una volta che iniziano, si riparte un po' da capo. Abbiamo visto il Cittadella fare molto bene ultimamente nei play-off, tra l'altro, insomma, semifinale, poi finale nell'ultima stagione. Ultimamente il Cittadella ha frenato perché è la terza sconfitta consecutiva. Però credo che queste ultime giornate di campionato, prima di play-off e play-out, possano veramente regalarci tante emozioni e molto spettacolo. al di là poi di alcune partite, ovviamente. Vabbè, la prossima, non sbaglio, il Benevento incontrerà il Livorno alla prossima. Quindi questa è una partita che di fatto non serva a nessuno di due, no? Perché uno è già promosso, l'altro è già retrocesso. Però sì, credo che sia ancora nelle ultime giornate una grande Serie B e che i giochi, insomma, siano ancora aperti però. Gabriele, prima di lasciare Alessandro alla sua serata, Volevo chiederti, Alessandro, da giocatore, play-off 16 agosto, 20 agosto, quanto sono difficili da gestire in campo? Guarda, fortunatamente il coronavirus è stato una volta e quindi è tutta una novità. Io credo che il fatto di giocare tante partite non ci possono essere previsioni o pronostici. Il fatto di giocare poi con il caldo ogni tre giorni sicuramente saranno avvantaggiate le squadre che veramente sanno fare il gruppo. Quindi credo che la parte tattica, non tanto la preparazione della partita, perché preparare una partita oggi è difficile. Solitamente i allenatori preparano le partite in cinque, sei giorni. Penso che proprio i giocatori in campo, quindi l'esperienza, il gruppo, il fattore di avere tutti un obiettivo ben chiaro in testa. Chi giocava meno prima, che magari adesso è titolare e viceversa possa fare la differenza. Non è un caso che io abbia detto il Pordenone, proprio perché è un gruppo coeso e c'è un presidente molto attento a tutte le dinamiche quotidiane della squadra e secondo me questo farà la differenza nel breve. Se fosse stato un play-off tipico di un campionato normale avrei puntato prettamente su qualità tecnico-tattiche, ma in realtà secondo me la componente del gruppo secondo me in questo momento qua fa la differenza. Abbiamo una promessa con Alessandro, fra due minuti lo liberiamo, gli rendiamo chiaramente partecipare nella classifica, Laura. Così che magari vediamo anche la situazione del suo Venezia che ovviamente con due punti nelle ultime tre partite sia un po' complicato la situazione. Come appunto dicevamo con Erika, un benevento dei record, già in Serie A 76 punti, a seguire Propone a 61 punti, Spezia a 56, Cittadella a 52, e a seguire Scalernitana a 50 punti, Empoli all'ottavo posto a 48 punti, Chievo e Pisa a 47 punti, Virtusentalla a 44, 43 punti, Cremonesi a seguire Ascoli a 42, Pescara e Venezia a 41 punti, Juve Stabia a 38, Trapani a 35, Cosenza a 34 e Livorno a 21 punti. È una classifica Alessandro in coda molto complicata, nel senso che in pochissimi punti di fatto ci sono molte squadre e in questo momento resta anche difficile ipotizzare quello che potrebbe accadere, anche perché nel frattempo alle spalle di queste squadre Trapani e Cosenza stanno macinando dei punti con una media importante rispetto soprattutto alla prima fase. Sì, diciamo che è tutto aperto. La cosa che viene da sottolineare è che in realtà oggi dal terzo posto, dal terzo ultimo posto fino a 42 punti sono tutti dentro. Saranno fondamentali gli scontri diretti e soprattutto come ci si arriva dopo gli scontri diretti perché oggi la classifica, ognuno ha i punti che si merita ad oggi, ma nelle prossime quattro partite può veramente fare la differenza, perché sono già passate 34 partite, quindi se hai pochi punti, se hai 41 punti, in realtà ti sei meritato quei punti. Il problema è che, per esempio, per fare il caso del Venezia, la settimana prossima, questa settimana va a Spezia, sulla carta, non siamo sicuramente favoriti, però dopo qualche giorno abbiamo sicuramente una partita importante, quindi anche l'aspetto emotivo, come ci arrivi alle partite, sarà fondamentale. e io mi auguro, ovviamente, da Veneziano che ci salviamo e per il resto, ognuno poi alla fine del campionato porta a casa quello che si è meritato durante l'anno e quindi mi auguro che possiamo coronare un'annata fatta di sofferenze in maniera degna, anche perché purtroppo l'anno scorso siamo stati privati in una categoria, dopo lo scontro diretto con la Serenitana e siamo riusciti a recuperarla soltanto perché per il fallimento del Palermo. Sarebbe un fallimento totale dal punto di vista non soltanto societale ma soprattutto tecnico rifare la stessa fine dell'anno scorso, quindi io mi auguro veramente che tutti i giocatori ce la mettano tutta e sono convinto che nel bene o in mano in qualche maniera ce la faremo. Alessandro, noi naturalmente ci uniamo è logico nella speranza in questa... Anche perché se no a Venezia non ci vieni più quindi devi fare a Venezia. Guarda tra l'altro mi fermo a Mestra assolutamente. Guarda tra l'altro ho un ricordo lo posso raccontare tranquillamente in un giorno in cui mi stavo trasferendo parlo di quasi 25 anni fa buoni era un Venezia reggina 1-0 per il Venezia io sono andato a vedermi la partita in mezzo alla curva dei veneziani perché per me poi alla fine il calcio non ha colori ed è bellissimo e per me è stata una giornata molto molto interessante tra l'altro sono riuscito a girarla in senso positivo perché ieri sarei dovuto rimanere fermo in stazione per uno show proclamato da parte dei treni per 12 ore e quindi ho riempito quella domenica andandomi a vedere un Venezia reggina gol di Fontolan tra l'altro se la memoria non mi tradisce. Allora intanto la mettiamo sulla classifica così abbiamo tre punti in più e poi se ci salviamo siete tutti i miei ospiti compreso Igor Barbazza che mi ha invitato stasera tutti ospiti a Venezia va bene? E salutiamo tra l'altro due anni dopo a quella situazione il Venezia è stato promosso in Serie A quindi ho anche portato fortuna in un certo senso Alessandro allora aspettiamo Riapriamo gli stadi allora riapriamo lo stadio Ecco questo questo è un appello è un appello che veramente andrebbe andrebbe fatto purtroppo Alessandro noi intanto ti salutiamo e ti lasciamo e ti lasciamo alla serata con il Venezia e in bocca al lupo non ce ne vogliano gli sportivi che magari eventualmente ci seguono da Spezia per la sfida di venerdì in bocca al lupo e grazie Grazie Alessandro e in bocca al lupo Ciao ciao Salutiamo dunque Alessandro Laura abbiamo dei problemi Dei problemi tecnici stasera sì Gabriele è un martedì difficile da gestire però commentiamo Gabriele con la tua professionalità questi risultati come vedi ti chiedo da giornalista la zona playoff ma onestamente sia in coda che nella zona playoff e nella zona alta probabilmente assisteremo guardiamo Damiano insieme ai commenti di Gabriele la classifica così abbiamo anche diamo anche la possibilità a chi ci segue da casa di capire anche quelli che potrebbero essere i miei ragionamenti che probabilmente potrebbero anche essere contorti allora onestamente credo che lo Spezia sia l'unica società in questo momento a poter provare ad agganciare il secondo posto occupato in questo esatto istante dal Crotone poi intanto vediamo se riusciamo a farci sentire con Erika questa sera poi ovviamente la situazione allora Erika guarda Laura approfittiamo del fatto che io adesso mi sto sentendo stavamo commentando Erika la zona playoff volevamo comunque da te un quadro insieme comunque a Gabriele di quello che sta accadendo chiederei a Damiano di scendere leggermente sulla classifica perfetto Damiano perfetto ti chiedo Erika come vedi la squadra empolese in questo momento una domanda a caso casuale è l'Empoli che è ottava l'Empoli Erika che è ottava in classifica in questo momento di fatto rappresenta la linea di demarcazione oltre il quale ai playoff non si va questa era la domanda ovviamente di Laura poi ti chiedo così aggiungo come vedi anche le altre in corsa per i playoff allora iniziamo dai playoff come vedo i playoff sicuramente come dicevo prima secondo me i giochi veramente sono aperti per tanti aspetti perché la classifica è molto corta secondo me io sentivo tu Gabriele prima dicevi che l'unico che secondo te può afferrare può provare ad acciuppare al secondo posto è lo Spezia comunque sono 5 i punti di distanza dal Crotone e il Crotone niente abbiamo perso di nuovo Erika purtroppo vediamo se riusciamo a riagganciarla però il Crotone ok ok non vi vedevo più il Crotone sta dimostrando continuità perché da quando è ripartito il campionato comunque aveva iniziato con dei pareggi però poi adesso sta vincendo in una serie positiva dunque sta trovando la sua continuità per il resto i giochi come dicevo sono aperti l'Empoli beh l'Empoli potrei partire da lontano per dirti quello che penso nel senso che sicuramente è una stagione molto travagliata per l'Empoli una stagione in cui comunque sono è stata allenata da più allenatori chi aveva magari più esperienza chi meno come primo allenatore poi è arrivato sicuramente un allenatore di grande esperienza e dunque Pasquale Marino sta anche portando avanti il suo lavoro sta dando un'identità alla squadra adesso è una squadra l'Empoli che a mio avviso ha le idee molto più chiare di prima l'ambiente sembra comunque adesso io non lo vivo insomma essendo a Milano non abito più in Toscana quindi non lo vivo diciamo in modo ravvicinato però appare sicuramente un ambiente più sereno rispetto ad altri momenti proprio sempre di questa stagione era comunque in serie positiva quando è arrivato Pasquale Marino all'Empoli praticamente era non mi ricordo quinto ultimo posto comunque in ben altre aree e zone della classifica adesso è lì che se la gioca per i playoff l'obiettivo come sappiamo era quello di tornare il prima possibile in serie A dopo la retrocessione sicuramente può può giocarsi queste ultime giornate aritmicamente credo sia impossibile ormai il secondo posto però può cercare di ovviamente disputare il playoff questo mi sembra sicuramente una certezza per quanto riguarda l'Empoli assolutamente sì per il resto che cos'è che mi avevi chiesto poi per i playoff chi può ambire chi può provare esatto Erika vediamo comunque Damiano se puoi scendere vediamo Chievo e Pisa comunque in allora io mi fermerai al Pisa io mi fermerai al Pisa anch'io sì dopo il Pisa tra l'altro c'è la virtuosa Entella che è la prossima avversaria dell'Empoli mi avevate chiesto prima dell'Empoli apri chiudo parentesi l'Entella in casa comunque ha perso veramente pochissime volte e quindi sicuramente ha 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 totalizzato e collezionato molti punti in casa stavolta però la partita è al Castellani o sbaglio esatto esatto è al Castellani perfetto infatti allora ricordiamo Erika che l'Empoli viene da una sconfitta pesante quindi insomma certo una sconfitta contro l'Ascoli l'Ascoli che tra l'altro è un'altra un'altra società un'altra realtà che ha vissuto una stagione direi particolare travagliata anche l'Ascoli non so seguirsi di allenatori tra l'altro l'Ascoli non so seguirsi di allenatori in pochissimo tempo perché dal lockdown adesso ne ha visti tre perché c'era ancora Stellone durante il lockdown poi è arrivato a Bascal e adesso insomma con Dionigi sta avendo una serie una serie positiva l'Ascoli l'Ascoli che insomma ha rimesso in piedi una stagione dunque una stagione che potrebbe anche dare soddisfazioni alla squadra di Polcinelli il Pisa il Pisa da matricola comunque al di là insomma dell'ultima partita però da matricola sta facendo bene in questa stagione io sinceramente non credevo che potesse anche provare ad avvicinarsi ai playoff invece sta facendo bene l'altra matricola è il Pordenone un'altra matricola che è una rivelazione di questa stagione quindi ti dico io mi fermerei a ma non lo so sì mi fermerei a Chievo e Pisa anche io sicuramente e quattro giornate ci diranno quale poi sarà lo scenario perché effettivamente sono quattro giornate non so se siete d'accordo con me in cui comunque anche in base agli incroci possono cambiare quello che vediamo adesso ecco tra l'altro ti chiedo Erika chiaramente è una cabala però nel calcio spesso le cabale funzionano nell'anno del centenario si dice che l'anno del centenario non porti molto bene l'Empoli è nato nel 1920 e quindi festeggia proprio quest'anno nel centenario sta avendo una serie di vicissitudini non fortunate dobbiamo dirlo a Cosenza un gol non visto sappiamo che poi il calcio è frutto anche di episodi di partite che non vanno gli infortuni arriva la Mantia si fa subito male diventa indisponibile per il post lockdown dopo che sembrava che la Mantia la Mantia non la Mantia la Mantia fosse recuperato un'altra società un'altra società che festeggiava cent'anni in questa stagione era la Sede Renitana e anche la Sede Renitana sta vivendo una stagione di alti e bassi è vero che è dentro la zona playoff ma ha avuto durante l'arco del campionato quelle occasioni quelle chance per poter prendere veramente la fuga per andare a agganciarle nel vero senso della parola a quei playoff e invece è sempre lì che in questo momento sta rischiando di non entrarci tre punti sopra Chievo e Pisa sì vabbè la Sede Renitana sì è una stagione veramente di alti e bassi non è certamente una delle protagoniste di questa stagione la Sede Renitana l'Empoli ora tu mi vuoi portare forse a parlare di far polemica io no assolutamente no 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 non sono non sono molto non sono molto propensa a parlare di arbitraggi a parlare di episodi anche perché credo che comunque nel nel calcio sia insomma può capitare una volta ad una realtà una volta ad un'altra realtà una svista o un errore fanno parte comunque del del gioco del calcio anche no poi con il VAR magari meno però fanno parte in parte anche del gioco del calcio e sicuramente in Serie B credo che questa ripartenza quindi da quando è terminato il lockdown come dicevo prima abbia anche cambiato un po' i variabili sicuramente io parlo con molti allenatori e tutti o la maggior parte mi dicono che a questo punto non conta cioè conta molto meno il tattica la tecnica conta molto la condizione fisica perché ovviamente giocano ogni pochi cioè veramente tempi molto stretti tempi molto serrati ogni tre giorni o poco più anzi poco meno probabilmente sì la condizione fisica la condizione atletica poi secondo me con con i cinque le cinque sostituzioni conta molto anche la qualità poi della rosa al di là dei titolarissimi no? perché poi magari ci sono alcune squadre che hanno i loro principali titolari e poi una panchina magari che può subentrare a volte ma non magari il riferimento dell'allenatore adesso ovviamente giocando ogni tre giorni c'è molto turnover abbiamo visto anche comunque prima mi parlavi dell'Empoli e voi che insomma siete trasmettete da Empoli giustamente mi chiedete di più dell'Empoli abbiamo visto Ciceretti fermo abbiamo visto insomma però potrebbe rientrare insomma mi risulta che potrebbe rientrare diciamo che ovviamente le condizioni fisiche fa la differenza il turnover fa la differenza se un allenatore ha più giocatori di qualità a disposizione è ovvio che anche questo può fare la differenza no? a questo a questo punto del campionato assolutamente Erika ora io direi di guardare anche il prossimo turno cioè le gare che saranno giocate venerdì così approfittiamo della presenza approfittiamo per commentare esatto con Erika a 360 gradi questa settimana di calcio giocato Damiano passiamo al prossimo turno che si giocherà appunto venerdì 17 luglio con Pescara Frosinone alle 18.45 all'ora e 21 Benevento Livorno Cittadella Ascoli Crotone Salernitana Empoli Virtus Centella Juve Stabia Chievo Perugia Cremonese Pisa Trapani Pordenone Cosenza e Spezia Venezia Io faccio una domanda Erika perché me la sono segnata in tanti me lo hanno chiesto perché la serie A gioca alle 21.45 e la serie B alle 21 te lo sai Erika questo è una così metti la pianta no è una curiosità no non ti so rispondere ma insomma non voglio nemmeno entrare in merito a troppo queste questioni posso dirti che talvolta quando la partita alle 21.45 magari se non è troppo divertente poi ad una certa ora iniziano a chiudere gli occhi però si iniziano a chiudere gli occhi però per il resto dai devo dire che anche la serie A insomma i giochi sono aperti anche in serie A per molti aspetti no quindi è un finale di campionato sicuramente interessante tu prima parlavi della serie C ma hai detto che poi ne parleremo la serie C tra l'altro Erika Erika vorrei aggiungere una cosa un'Atalanta che sta vincendo 4 a 1 in casa contro il Brescia quindi un'Atalanta che regala nuovamente grandi emozioni continua pure Erika continua a dare spettacolo all'Atalanta sì no dicevo che anche per quanto riguarda la serie C tu avevi anticipato in apertura ovviamente grande spettacolo anche adesso no perché comunque poi venerdì saranno giocate le semifinali poi mercoledì il 22 la finale e ci sono i colpi di scena e ci sono comunque le conferme piazze importanti quindi insomma ovviamente io magari sono un po' di parte perché poi seguo la serie B e la serie C per lavoro però però poi prima di salutarci diamo diamo l'appuntamento sono campionati sono campionati interessanti sì grazie sono campionati interessanti devo dire e poi in realtà importanti perché tu pensate a una realtà come come Bari cioè sta giocando la serie C e ovviamente l'obiettivo è di salire il prima possibile ci sono realtà toscane come ad esempio la Cararese che comunque anche anche la Cararese in semifinale il colpo è stato quello del Novara che ha eliminato il Cari che era una testa di serie e un toscano un allenatore toscano invece allena la reggiana Reggio Odace e quindi che anche Reggio Odace ovviamente ha i playoff di serie C e dunque sono pochi giorni in cui sarà deciso la quarta promozione per quanto riguarda dalla C alla B dopo Monza Vicenza e Regina che sono le squadre che hanno comunque erano in testa ai rispettivi gironi quindi sono già promosse in serie B tra l'altro apro e chiudo velocemente una parentesi ieri a margine della partita Cararese Juventus Under 23 finita poi 2 a 2 con una rimonta semirimonta della Juventus negli ultimi minuti folla veramente una folla ai tifosi della Cararese che hanno accolto l'arrivo del Pullman allo stadio e si sono viste delle scene che in un certo senso qualcuno le ha criticate ma a me lo devo dire sinceramente mi hanno fatto un po' di piacere perché per qualche attimo mi è sembrato di rivedere un po' di normalità poi sapevamo che non sarebbero potuti entrare dentro lo stadio e che si sarebbero dovuti un po' come si usa dire in certi termini sparpagliare per non creare diciamo il senso di assembramenti esatto l'assembramento come termine ormai che è entrato nell'abitudine della lingua italiana di tutti i giorni invece ti chiedo Erika delle partite del prossimo turno cosa io purtroppo non ne posso vedere tre e quattro Laura lo sa alla volta perché non è più possibile quali sono le partite che ti incuriosiscono allora io sono sincera non me le ricordo se me le rimettete guardiamo sicuramente non mi incuriosisce Benevento Livorno che se non sbaglio è una partita del prossimo turno perché ovviamente lì ecco sì infatti non mi confondevo insomma lì c'è poco ormai in gioco per non dire niente Pescara Frosinone mi incuriosisce perché sono curiosa di vedere se il Frosinone ha una scossa in qualche modo vediamo se riesco anche a se me li fate rivedere perché scusatemi ma non me lo ricordo Empoli Edentella mi incuriosisce perché ovviamente è interessante capire se l'Empoli dopo questa frenata contro l'Ascoli tornerà ad accumulare conti e dunque tornerà anche sulla scia di quello che stava costruendo prima e dunque anche più stabile e più solido nella posizione playoff Crotone Salernitana scusatemi di Crotone Salernitana certo il Crotone ovviamente ovviamente il Crotone poi in caso di vittoria a questo punto insomma si lancerebbe veramente verso verso la promozione e sono curiosa di vedere anche Cittadella Ascoli praticamente le guarderò tutte ma di fatto le guarderò tutte le guardo sempre cerco di avere più occhi che poi Gabriele tu sai bene che quando si guardano tutte in realtà si guardano poco tutte perché è difficile seguire i 90 minuti di molte partite diciamo diciamo che quest'anno il covid mi ha fregato nel senso della scherzoso ovviamente della situazione perché io era arrivato a 119 partite viste prima del covid viste veramente c'è 90 minuti ovviamente non fisicamente e avevo notato che a volte avevo dei pareri discordanti con chi invece vedeva soltanto le sintesi proprio perché quando vedi le partite ti fai un'idea precisa anche della forza della squadra delle loro caratteristiche poi con il post covid è successo che quasi tutte le partite si giocano in contemporanea e quindi ne devo scegliere quella prima e poi ne devo scegliere una di quelle che giocano alle 21 al massimo come ho fatto per il Pisa nell'ultima partita che ero curioso vado a rivedermela ma quando conosci già il risultato non è semplice insomma beh tendenzialmente io tendenzialmente ne scelgo una e magari seguo un po' di più e poi vado magari anche tot tempo sul canale che magari va di volta in volta sul campo in cui sta accadendo qualcosa di importante di rilevante d'altronde è un po' l'unico modo per seguire il partito contemporaneamente anche perché faccio un esempio Erika eclatante la sconfitta del Pisa a Pordenone anzi a Trieste contro il Pordenone è stata una sconfitta molto bugiarda perché chi ha visto il risultato magari ha pensato beh il Pordenone ha vinto ha stradominato in realtà il Pordenone ha calciato in porta due volte il Pisa ha fatto la partita e lo dico francamente sportivamente parlando meritava secondo me addirittura di vincere e invece ha perso io me la sono vista e devo dire che sono rimasto male perché non mi aspettavo una prestazione importante come quella del Pisa sul campo del Pordenone e secondo me dimostra quanto effettivamente si sta meritando la posizione che è in classifica in questo momento la squadra di Angelo al ridosso della zona playoff io però vorrei essere diretto con Terica so che ti posso mettere un po' in difficoltà ma non voglio farlo è soltanto perché si gioca ovviamente in questo senso quindi chi ci segue da casa ma non è vero ma non è vero che non vuoi non è vero che non vuoi farlo vuoi farlo assolutamente no 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 ti chiedo ti chiedo vuoi farlo assolutamente no ti chiedo scherzosamente e per gioco che finale ti aspetti nei playoff detto che prima no ma così senza nulla togliere agli altri cioè poi magari sei contenta se ci vanno altri no ma no guarda guarda stavo guardando sposto sposto gli occhi perché riguardavo la classifica ma a che finale mi aspetto ma credo veramente che sia impossibile darti una risposta perché perché la mia poca esperienza però che ho accumulato negli anni mi porta a dire che i playoff una volta una volta che iniziano i playoff di fatto è un altro campionato cioè può succedere di tutto perché perché poi gli episodi a volte fanno la differenza perché la motivazione può fare la differenza e talvolta magari la pressione e la tensione può fare la differenza in senso negativo quindi non ti so rispondere guarda perdonami non ti so proprio rispondere allora mi faccio perdonare mi metti troppo in difficoltà mi faccio perdonare dicendoti che semifinale che semifinale ti aspetti inseriti sono già state decise le semifinali giusto non ti sto sentendo più però immagino tu mi abbia chiesto la finale di serie C no ti ho chiesto che semifinale che semifinale ti aspetti in serie C così non ti metto in difficoltà perché le conosciamo già no era per farmi perdonare la semifinale quelle ci sono quelle le sappiamo quindi sappiamo che insomma sono belle partite sono belle partite per la cararese tra l'altro è comunque già un risultato storico il fatto di essere in semifinale playoff e dunque provare anche a guadagnarsi la finale e perché no provare a guadagnarsi la promozione giocare contro il Bari però il Bari sappiamo essere una corazzata insomma importante il Novara è un po' l'outsider che ha battuto come ti dicevo il Carpi che ha anche eliminato il Ponte d'Era che però come sapete non ha partecipato ai playoff avrebbe dovuto incontrare il Novara poi non ha partecipato perché i playoff di fatto in Serie C sono volontari sappiamo che l'emergenza il protocollo anti-Covid comporta comunque anche un dispendio economico determinate attenzioni e quindi hanno ritenuto insomma di dare la possibilità alle società se partecipare o meno il Ponte d'Era ha deciso di non partecipare Reggio Audace è una squadra anche insomma una rosa importante vedremo vedremo io credo molti addetti ai lavori mi dicono che la favorita tra queste per la promozione sia il Bari l'allenatore lo abbiamo intervistato oggi Vivarini ovviamente sostiene che il fatto che non sia così perché poi giustamente ci diceva che è anche comodo considerare poi una favorita ma insomma poi le realtà sono importanti in Serie C le piazze sono importanti e dunque vedremo vedremo però se me lo concedi ti posso dare appuntamento anche se volete seguirmi assolutamente a sabato a sabato in cui parleremo di Serie B e di Serie C Sky Sport 24 sì con Daniele Barone avremo tanto da raccontare perché questo calcio in questo finale di stagione in questa estate così insolita sta dando spettacolo perché ovviamente e le persone hanno anche voglia i tifosi hanno anche voglia di tornare a vedere il calcio e in qualche modo anche di tornare a respirare un po' di normalità quindi vedremo poi anche se andrà avanti la possibilità o meno di poi far tornare i tifosi seppur ovviamente in modo controllato anche allo stadio vedremo speriamo che insomma l'emergenza sia superata definitivamente il prima possibile senza ricadute assolutamente con Erika l'appuntamento speriamo di riaverti naturalmente a Bidivano ma presto però per gli sportivi che ti seguono da casa io vi prometto vi prometto Gabriele guarda e Laura vi prometto che se siete così buoni e mi inviterete di nuovo cercherò di avere una connessione internet è il minimo che posso fare assolutamente guarda tra l'altro l'ottimo regista Damiano che ci sta seguendo in questa puntata ci ha comunicato in tempo reale che c'è un problema a livello nazionale sembra che sia down in tutta l'Italia Whatsapp questa dimostrazione del fatto che forse qualcosa sta accadendo dal punto di vista tecnologico in Italia Erika quindi forse magari è collegato anche a questo chissà magari la gente non riesce a scrivere su Whatsapp e carica internet per scriversi sotto Messenger mi viene a mente altri altri altre strade da percorrere Erika noi ti ringraziamo noi abbiamo sforato ma tanto è un'abitudine di 8-9 minuti il nostro tempo ma Laura sorride perché tanto sa siamo sempre abituati a giocare anche nel recupero Gabriele esattamente superiamo abbondantemente i nostri 45 minuti minuti canonici di un tempo di partita Erika siamo veramente contenti di averti avuto qui ospite con noi mentre sorseggi il tuo caffè serale perdonate il mio caffè ma benissimo questo è lo spirito di Dovanum TV ed è lo spirito anche di Dovanum sorseggiando un caffè parliamo di calcio tranquillamente è stato un piacere Erika alla prossima Erika in bocca al lupo per tutto grazie grazie a voi e a presto e noi naturalmente continueremo a seguirti in TV Laura siamo arrivati in conclusione noi sostanzialmente siamo riusciti comunque a domare questa ottava puntata abbastanza complicata poi Igor Barbazza e Davide Pratelli rispettivamente presidente di Rivano in TV ci diranno se saremo stati bravi comunque che salutiamo e ringraziamo sempre per tutto ringraziamo nuovamente la regia di Damiano Baccetti sempre pronto ad aiutarci nei momenti di difficoltà Gabriele torneremo la prossima settimana sempre martedì alle 21.30 per commentare appunto il campionato cadetto che è prossimamente molto interessante Gabriele assolutamente sì in rigorosa diretta su Facebook e su YouTube di Vanom TV avremo altri due ospiti molto importanti una giornalista a livello nazionale non vi svelo il nome così rimanete con la curiosità di capire di chi si tratta e poi un ex calciatore che ha vestito in molte maglie molte società in Serie B che attualmente sta facendo il procuratore e tra l'altro sta anche raccogliendo delle soddisfazioni perché un paio di suoi assistiti si stanno davvero anzi diciamo anche tre si stanno mettendo in mostra in maniera eh sì abbastanza importante in Serie e cadetta con una squadra in particolare anche da parte mia mi unisco a Laura buonanotte a martedì prossimo non ci tradite mai seguite i social su di Vanom TV e naturalmente la nostra pagina di Vanom buonanotte buonanotte a tutti e la nostra pagina a tutti la nostra pagina di Vanom Grazie.